In questo percorso esistono inutile nasconderlo alcune difficoltà. Ci sono infatti ancora regioni oggi dove nonostante l'esercizio dei poteri sostitutivi e le numerose diffide invitate da parte del Ministero non sono stati istituiti enti di ambito o anche se istituiti non sono operativi. Credo che il commissariamento di quei comuni che non aderiscono ancora agli enti d'ambito ne abbiamo un esempio sul lago di Bracciano sia necessario e indifferibile.